Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di... Abbiamo avuto tanto, bene andiamo a conquistare un avamposto, cercando di conquistare in questo episodio tutti e tre A meno si avamposto Vediamo un po' se riusciamo a persuaderlo Proviamo Non è sicuro che tu sia sufficientemente apprezzabile da consegnarti l'avamposto così, senza combattere Guardi, non posso fare altro, è molto testardo È la loro ultima linea di ripeto Sì, sì, vedo È certo che se mi dai uno di... Ecco qua, ora c'è vai Ciao, è stato un piacere Eh sì Ora l'avamposto appartiene alla tua tribù Già, abbiamo fatto in fretta eh E questa è fatta benissimo, adesso è un contento Dice che anche se li hai indeboliti non si arrenderanno Sì, certo come no Il tuo Sifo ti ringrazia La vostra tribù è sempre più forte Già Bene, possiamo proseguire Andiamo nel prossimo accampamento che è qui vicino E poi dopo facciamo il signorotto per prendere la sua arma Prendere sia buona Ecco il Sifo Dice che hai fatto un ottimo lavoro liberando l'avamposto Dice sempre le stesse cose E siamo a posto Allora, vediamo il prossimo dov'è È di qua Eh, piazza indicatore Sì perché se no me le insegna tutte E non ci capisco un cazzo Benissimo, adesso qua Dopo lo esprimerò Tanto sempre la stessa cosa ragazzi Non è che c'è C'è un santuario psale Le solite cose Dai Però c'è qui niente E quindi andiamo E siamo tutti felici Andiamo di qua Spero si apra sto posto Che insomma Ah ok Andata Posso uscire da qualche parte Perché Ok, di qua E andiamo di qua Che siamo proprio due passi Due 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 Sia di qua che di là E c'è lì c'è il pissatoio Che abbiamo già fatto Sfumeggiante Eh sì Viaggiando in melmoscafo Si evita di venire inzuppati di melma Si torna a faticare Ah c'è un Ah non l'avevo fatto questo Beh mi fa piacere Vediamo Eh beh Due Uno di fila l'altro Prima invece Ce ne dava uno Morto di papa Va bene Vediamo Un po' di legno Rottami tutti per te Sì sì Che adesso Voglio potenziare Assolutamente Il pillaggio di logo riotto Non è poi così male Dici? Se magari mi danno delle quest Non è male No Perché non ce le danno mai Accidenti Questo è il pisciatoio Non sarà neanche malo Però non c'è nessuno Porca vacca Allora queste le quest Non le danno Questa la questa non la da Adesso do una veloce Veloce guardata Esploro due tre cosine Questo perché così me lo segna Benissimo Benissimo Così siamo a posto Poi E poi niente Dai vado Sennò Veramente vi sto annoiando troppo Questi video Che Sono lunghi 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 Ok Perfetto Allora devo andare di qua Vediamo se ci riusciamo Dai cavolo C'è quattro zampe Non riesce a saltare Fino a qui Eh Insomma Ce la faccio Uniamo Mi piacerebbe esplorare Tutto in questo mondo Ma non mi rendo conto Che per molti Questo gioco potrebbe essere Noioso Da vedere Tutta questa esplorazione E quindi Andiamo avanti Così Ok 200 passi Siamo proprio arrivati Vai Perfetto Oh sabio Sei un peccatore Signor totem Lei è molto bello Da vedere Sa Questo mi serve Ehi guarda Rottami metallici Tutti per te Eh già Tutti per me Dovresti riuscire A farne buon uso È difficile Vedere lontano Nell'oscurità Ok questo E due passi Lo prendo Dai Ok Che questa è fatta E qui dovrebbe esserci Pissatoio Che Chissà dove sarà Certo che Se mi disse Eh Se mi dicesse qualcosa Mi sarei grato Ah Era giù Ok Spero non ti dispiaccia Bagnarti i piedi Eh Perché Ok Intanto ci bagniamo Insomma Cambiamo l'acqua Pipistrello qua Ed ecco qua Vediamo E qui C'è l'attacco generale Dice che è il momento Di liberare L'avamposto Sì Ci sono altre cose Dice sempre le stesse cose Vai Perfetto Ecco la prima linea di difesa No me la spacco in quattro parti Venga qua signoro Venga venga linea di difesa Occhio a quella Occhio a quella gigio Pimpu Pimpu Sì sì Il pimpu Lo sceltevo io Guardi C'è poi c'è un Un cucino a pompa Da panico Questi Ok Benissimo Vai 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 Adesso questo qui Facciamo Ah Questo dicevo che Eh Spara però Cosa devo fare Per Non me la locca Ci deve essere qualcosa Che mi è sfuggito Ah Ok Eh Devo romperlo E dimmelo però Se non me lo dici Ok Ha finito di sparacchiare Eh già A quanto pare sì Andiamo nell'altro Posto Certo che i miei colleghi Potevano fare anche qualcosa Eh E questa è andata A posto Andiamo pure A quanto pare non qua Ah di qua Eh Ah beh Interessante Devo spingere qua E qua Ok Continua così Perfettico Adesso andiamo da signorotto Gli spacchiamo il culo In quattro parti Signorotto Signorotto Dove è finito Eccolo qua Occhio all'olio bollente Ah Ma la miseria Quante cazzo di avversa Signor Non si fa così Eh che cazzo però Non avvicinarti Finché non l'avrai fatto fuori Ora puoi avvicinarti Sì Perfetto Perfetto Ah Così quattro quindi Eh sarà divertente Ok Posto Adesso Adesso Ci divertiamo Eccoci Guardate quanta roba Gli ho dato Gli ho sfraganato di colpi Proprio Una roba Esageratica Guardate lì Che razza di roba Carichiamo Perfetto Ciao È stato un piacere eh E questa è andata Adesso Ecco la seconda linea Di difesa Ah Interessante Quindi Ci sarà da Menare le mani Vero Perfetto Lei è morto Lo sa Ma glielo dico Proprio col cuore Andiamo qua Oh Perfetto E questa è andata Poi Vai Perfetto Andata Quel razzo potrebbe essere La soluzione che cerchi Per far che? Per rompere Le mura? Vabbè Faremo Vai vai Corri 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 Vai Salta su quella candela E accendilo Ora puoi partire Dove vado? Sono lì che guido No Oh porca vacca Ah Ah Perfetto Cioè Mi sono fatto Spade con un missile Però insomma A parte quello Tutto a posto Eccoci qua Eh Ora L'avamposto Appartiene Alla tua tribù Eh Mi sembra giusto Anche no? Ho avuto La fatica Dice che Anche se li hai Indeboliti Non si arrenderanno Certo Certo Il tuo sifo Ti ringrazia La vostra tribù È sempre più forte Abbiamo conquistato Il mondo E questo Lo sappiamo Dice che hai fatto Un ottimo lavoro E dice sempre Le stesse cose Va bene Allora Adesso che abbiamo Fatto questo Dobbiamo fare Il prossimo Che è quello Questo qua Così a me non sblocco Un po' di teletrasporti Cavolo Siamo troppo lontani Se no Ok Andiamo qua Mettiamo anche questo E ci andiamo Di corsa Che bello Dai Oh Qui possiamo anche tagliare Che cosa gradita Finalmente E tagliare Però se non c'è Una via di entrata Di qua Ok Così ci andiamo Di corsa Di filata Facciamo anche questo Così questo episodio Li facciamo tutti Conquistiamo anche Quello finale Cioè Quello del signor Otto Così prendiamo La sua arma Questo totale Lo lascio lì E siamo a posto Ah Nei posti freddi Va bene Interessante E qui devo ancora Tornarci Lo so Tanto comunque Me li dice Sulla mappa Quando ci vado sopra Se li ho fatti o no Quindi dai Ecco qua Siamo qua 200 bar Ci siamo velocissimi Facciamo Tanti passi A secondo Ed ecco qui L'avamposto Perfetto Spero ci sia Modo Sì sì Non mi interessate voi Siete pesci piccoli Dicevo Spero ci sia Un modo Salve Perfetto Solo 700 Proprio Verete Siete L'avamposto Vascalogna La tribù Dei lutei L'ha tirato su Dal nulla Ah Fa piacere per loro E un altro Teletrasportico È liberato Bene Adesso Continua Continua senza Fermarti Finché tutti Gli avamposti Non saranno Sotto il tuo Controllo È ovvio Che continuo C'è una squadra Altobombica Pronta Ah devo fare Sembra felice Di sentire Che lo spararco Farà calare Le alte bombe Sull'avamposto In un lampo Perfetto Quindi devo andare Qua No Là C'è boia Così lontano Mi fai andare Oh porca vacca Cos'è un mortaio Per essere così lontano Quanto pare Sì Perché se no Non avrebbe molto senso Ok Siamo arrivati Dai Non è tanto lontano Salve Si si Questo è molto piacevole Dice che tu abbia Morto Ucciso Il capitano Dai dutei Si Ok Cosa Altro devo fare A quanto pare Non è finita Perché 1600 Passi Mi stai chiedendo Un'astrosità Dove cazzo Mi stai facendo andare Scusate Io Questa volevo fare Non me la fai fare Non l'ho capito Cioè Ho capito malo Vediamo un po' Eh Adesso devo andare anche qua Vediamo un po' Perché non ho mica capito Cosa mi ha chiesto Ah ok Lo spararco Lo spararco Dintorni trovati Allora Andiamo qua Perché se no Mi sto rincoglionendo Staccato di quest Allora Vediamo qua Intanto 200 passi Siamo in dove eravamo prima In pratica Ah Questo è per comprare Per domesticare Ecco qua Così l'ho preso Siamo a posto L'animale della zona Insomma Lo calo Eccoci qua Perfetto Le sdoppio vie Sono uno spasso Eh Così pieno di possibilità Oh ma qui ci da un abito Ruota le manovelle Della scatola di controllo Per far ronzare il cavo Perfetto Qui ci da un abito Cablato e pronto all'uso Che stile Eh Copri capolavoro Bei pantaloni Ma Somma Mi sembra una cacata Vabbè L'alba è il momento migliore Per iniziare la giornata Eh Sono di te Perfetto Eh Porta a porta Cominciando ad essere un po' nervoso Il gioco Non ho fatto anch'io Cerchiamo di velocizzare un po' le cose Peccato perché era un giocone Veramente bello Allora A posto Allora Dove devo andare? Non c'è voluto molto Eh Di qua No c'è il coso là Adesso apro qua Mi fai fare? C'è un altro combattimento Eh va fa culo va Eh Senta miserica Colgelami Ok Vai Puoi aprire adesso? E niente Ce n'è un altro No non si apre proprio Vabbè Pazienza C'è tanto da spolare Lo so ragazzi Però Vedo che Stai cominciando ad essere Eh Che cazzo devo andare? Scusate Di qua Ah ok Un po' noioso il gioco Quindi lascio perdere E allora Ecco qua Apriamo E almeno facciamole queste Più portanti Vediamo un po' Vai I tasti devono essere in ordine Così E così Dovrebbe essere a posto Eh ho fatto una caccata Scusate I tasti devono essere in ordine Pensavo non lo so Eh vabbè Ah mi è in Non me l'hai esettato I tasti devono essere in ordine Ok Posto A posto l'ho Anche questa è andata Eh adesso devo sentire la chiamata Si La tecnologia dei giorni andati è ancora qui Anche se il suo messaggio sta diventando vecchio Allora qua ce n'è una Segui Vediamo qual è perché non ho mica capito io Accidenti Cioè ma si Andiamo a cercare qualcosa qua No Benissimo L'alba è il momento migliore Per iniziare la giornata Dobbiamo solo salire sopra E vedere come fare Eccolo qua Trovato l'entrata Aggrappati bene e parti Aspettate adesso Sono qua Prendo questa Perfetto 11 Cioè ci metto tutta la vita a cercare le 11 Ok C'è nient'altro qua? No Ok saliamo su Perfettico Vediamo se c'è qualcosa Vediamo se c'è qualcosa Vediamo se c'è qualcosa Di qua Perfetto La chiave di tutto è l'equilibrio Eh già Ok Fatto Perfetto Questo è un altro E' lì a disposizione E dopo guarderemo Adesso salve Mamma mia Ecco la punta di freccia È buona per carità Vediamo un po' Eccoci qua Perfetto Non mi ha spettato in faccia Ok Porta Non si apre Quindi da quello che mi viene da pensare È di sotto No di sopra Di sopra Qua E come ci vado di là Senza passare di là È un arcano mistero questo Devo andare qua di sopra Ah Là Devo andare Ok Perfetto Non avevo capito Scusate Facciamo così Ok Salve Lei è molto bello Sa È proprio bello 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 Ma facciamo così Va Ma facciamo il culo Vabbè Oh me l'ha dato Sali lassù E sistemalo Ma che cazzo c'è da sistemare qua È a posto No? Oh Adesso ci riguarda Ecco È andata Allora Il giallo Il giallo Il giallo Il bianco Il bianco Il giallo Il giallo Cosa devo sistemare Non ho capito Scusate Vabbè Cioè Non ha senso È già sistemato Questo l'avrò fatto Sicuramente Con la missione Secondaria Ecco Va Va capito Scusate Ed eccomi qua Allora Dobbiamo fare Ah A parte che qui c'era qualcosa Mi prendolo Grazie La commezione Ho modificato gli ami Dove vi faccio vedere Questa paluda è sconfinata Vedete Adesso Ha capito Che sta Facendo di tutto Ciao ciao Ok vedete Adesso spara un po' più lentamente Però fa tanti danni in più E sono molto contento di questo Vedete Molto meglio Ho detto Tutti i pezzi che abbiamo preso Era anche ora Insomma Si Eccoci qua Adesso piano piano Faremo tutto Allora Mettiamo a posto questo Così Così E così Perfetto E anche questa è andata Questi sono i mortali Così possiamo fare la cosa primaria Là Perfettico Ottico E adesso dobbiamo andare di là Mi sembra una cosa Più che giusta Ecco qua Oppala Così sa Dovevo un attimo Un attimo Cicciomolirle Così facciamo prima Va Ho trovato l'arma Ovviamente ho messo il fucile Perché Fucile a ripetizione Ho provato il potenziale Ma Insomma Non è che facesse Tanto Tanto in più Quindi Per adesso Facciamo così Dove fare un'arma da zero Effettivamente Smantellare un po' di cose Allora Così 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 Perfetto Tutto a posto Gli spararchi Sono già equipaggiati Con le alte bombe Speriamo che anche I loro miratori Siano a posto Ora l'avamposto Appartiene Alla tua tribù Stato facilo E così C'è rimasto Solo l'ultimo Che bello Di questa zona Dico Dice che anche se li hai indeboliti Non si arrenderanno Certo Come no Così in prossimo episodio Spacchiamo culo Il tuo sifo ti ringrazia La vostra tribù È sempre più forte Sì sì Lo so anche È forte L'ho ampliata tutta Pensa che tu abbia fatto Un ottimo lavoro Dice Perfetto Ragazzi Diciamo che ci possiamo Anche salutare qui Per questo video di tutto Vi vedo come solito Adesso Anche commento Se vi piace la serie Di farmi appunto Sapere cosa ne pensate Adesso Vi vedo solo Trociva Ciao Ciao